buongiorno allora oggi voglio farvi vedere come si fa il punto alpino mi è stato richiesto da una amica e adesso vi faccio il tutorial allora prendiamo il filato e facciamo una catenella facciamo una due tre quattro la catenella la possiamo fare 5 possiamo fare della lunghezza del lavoro che ci che dobbiamo eseguire 15 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 io faccio solo un campioncino faccio 15 maglie 15 catenelle adesso vado a fare 3 catenelle 1 2 e 3 catenelle e torno indietro lavorando dalla quarta quindi 123 la sale salto dalla quarta tutte maglie alte questo è il primo giro quindi il primo giro sarà un giro di maglie alte semplicemente l'unica cosa è che quando fate la catenella fatela abbastanza morbida perché così non tira perché altrimenti vedete così io l'ho fatta morbida rimane dritto se la fate piuttosto tirata vi tira e poi fa difetto il lavoro che andate a fare quindi facciamo il primo giro con un giro semplice di maglie alte questo giro non si ripeterà più è solo il giro iniziale vedete quindi ecco arriviamo alla fine abbiamo fatto il primo giro che non verrà più ripetuto in questo modo è l'inizio come ho già detto secondo giro quindi facciamo adesso il secondo giro una catenella per girare ed il secondo giro e tutti i giri pari saranno fatti a maglia bassa quindi vedete andrò a lavorare un giro il secondo giro di maglia bassa quindi il secondo giro e tutti i giri pari saranno fatti a maglia bassa spero di essere chiara nella spiegazione se avete bisogno sapete che io sono sempre qui e potete chiedere ricontate ogni tanto le maglie perché potete rischiare vedete qui c'è un'altra maglia da fare di saltare qualche maglia e poi il lavoro cambia la forma adesso facciamo il terzo giro e tutti questi giri il terzo il quinto e il sesto saranno fatti in questo modo il primo vedete la prima maglia io faccio una catenella un po allungata e una maglia alta nel primo punto nel primo punto e nell'ultimo punto del vostro lavoro ci sarà sempre una maglia alta semplicemente la seconda maglia io sulla prima maglia vedete questa ho fatto la maglia normale sulla seconda maglia vado a lavorare una maglia alta presa al giro sottostante dal davanti in questo modo la faccio vedete come viene quindi alterniamo vedete questa maglia io l'ho lavorata a rilievo la maglia successiva da lavoro normale quindi vado a fare una maglia alta normale vi faccio vedere il dietro ho fatto la prima maglia alta normale ho saltato una maglia qui perché ho lavorato sul davanti e alla terza maglia ho lavorato la maglia alta normale ora vado a rifare la maglia questa maglia l'ho lavorata vado a prendere quest'altra maglia qui questa una sì una no quindi alternato e vado a fare una maglia dal davanti qui entro qui nel davanti e faccio la maglia alta vedete la maglia alta la faccio leggermente morbida e ho fatto la seconda maglia allungata lascio sempre una maglia qui dietro vedete guardate e vado a lavorare una maglia alta normale qui con quella successiva salto la maglia seguente e vado a lavorare vedete non qui a quest'altra maglia in davanti quindi faccio una maglia alta davanti salto la maglia e faccio vedete qui la maglia alta normale vedete io sto facendo una maglia alta normale e una maglia alta sul davanti non so se si vede bene una maglia alta normale una maglia sul davanti quindi ho fatto la maglia alta normale ora salto la maglia e vado a prendere qui questa qui e faccio sul davanti vedete ora vado a lavorare lascio questa maglia e nella successiva la maglia alta normale di nuovo lascio la maglia alta e nella seguente faccio la maglia alta davanti lascio la maglia alta qui e faccio quella normale lascio la maglia alta inferiore e vado a prendere quella successiva per fare la maglia alta davanti di nuovo faccio la maglia alta normale le maglia alta normali vengono lavorate se vedete bene sulle maglie basse del giro sottostante la maglia alta davanti viene lavorata sulla maglia alta del giro precedente quindi qui ho lavorato salto uno e prendo l'altro così ora fatto di nuovo a fare la maglia alta normale sono arrivata alla fine del lavoro vedete vi ho detto prima che all'inizio e alla fine ci saranno sempre maglie alte normali quindi su questa vado di nuovo a fare una maglia alta normale quindi questa volta finisco il giro con due maglie alte normali faccio la catenella per girare e mi trovo a fare il giro pari il giro pari e ho detto che sarà a maglia bassa quindi tranquillamente lavorerò le maglie basse una maglia bassa su ogni albia alta del giro precedente ho fatto il giro di maglie basse e mi ritrovo sul diritto del lavoro ora vado a fare vedete questa è la prima maglia e faccio la mia catenella e la maglia alta sulla prima maglia nella seconda la salto e vado a lavorare vedete qui nella prima maglia alta del giro sottostante salto la maglia salto la maglia e vado a lavorare la maglia alta normale ora devo rifare la maglia alta allungata da dietro dove la vado a fare la vado a fare in mezzo vedete queste erano quelle del giro sottostante nella maglia alta che sta in mezzo a queste due quindi entro qui nella maglia alta dal davanti vedete così e vado a fare la mia maglia alta ho fatto la maglia alta lascio il punto da dietro vedete e faccio la maglia alta normale sulla maglia bassa faccio un'altra maglia alta davanti qui nel giro della maglia alta del giro precedente quindi le maglie alte davanti vanno fatte sempre sulla maglia alta del giro precedente le maglie alte normali vanno fatte questa la saltiamo vanno fatte sulle maglie 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 del giro fatto a maglia bassa quindi una maglia alta allungata maglia alta maglia alta maglia alta normale scusate ho detto bassa maglia alta maglia alta nel giro precedente maglia alta maglia alta maglia alta nel giro precedente maglia alta maglia alta vedete che vengono alternati le maglie allungate quindi ancora maglia alta allungata nel giro precedente maglia alta normale ancora questa era allungata questa è del giro precedente e ci facciamo la maglia allungata sul davanti e mi rimane l'ultima maglia dove vado a fare la maglia alta normale vedete mi ritrovo di nuovo faccio la catenella per girare a fare le maglie per il giro pari e quindi vado a lavorare di nuovo su questo giro un giro di maglie basse una due tre quattro cinque vedete questo è il rovescio del lavoro quindi diciamo che sul rovescio del lavoro lavoreremo sempre maglie basse tranquillamente senza altri lavorazioni con attivata alla fine giro faccio la mia catenella allungata e faccio la mia prima sul primo punto maglia alta normale ora ora vado a fare la maglia alta allungata se prima l'ho fatta su questa ora devo andare a quella che sta in mezzo e quindi quest'altra qui vedete che ho fatto a fare la mia maglia alta allungata presa dal davanti ancora qui lavoro la maglia alta normale e adesso vedete qui vado a prendere la maglia alta precedente per fare la mia maglia alta allungata ancora maglia alta normale ed ora un'altra maglia alta allungata in mezzo vedete tra questa e questa qui questa in mezzo prendo nella successiva faccio la maglia alta normale che la prendo sulle maglie basse del giro precedente ora vado a fare la maglia allungata sulla maglia alta del giro precedente invece della maglia bassa ancora una maglia alta normale ancora una maglia alta allungata quindi alterno sempre la maglia alta allungata con la maglia alta normale la maglia alta normale la lavoro sulle maglie basse la maglia alta allungata nel lavoro dal davanti sulla maglia alta del giro precedente quella che avevo lavorata normalmente al giro precedente quindi di nuovo maglia alta normale di nuovo maglia alta del giro precedente di nuovo maglia alta normale e siccome mi è rimasta una sola maglia un'altra maglia normale perché come vi ho detto l'ultima maglia deve essere sempre maglia normale la prima e l'ultima deve essere maglia normale vedete giriamo di nuovo un po' catenella e un giro sul rovescio di maglie basse il lavoro è diciamo abbastanza semplice si ripete sempre questo giro di maglie basse sul rovescio e sul dritto del lavoro si lavora un giro alternato di maglie alte vedete vedete sono di nuovo sul dritto del lavoro e adesso riparto facendo una catenella e una maglia alta normale sul primo punto quindi ripeto per l'ultima volta sul primo e l'ultimo punto ci deve essere sempre una maglia alta normale nella maglia successiva allora se io prima ho lavorato qui adesso vado a lavorare qui vedete e faccio una maglia alta allungata maglia alta normale e di nuovo maglia alta allungata in mezzo alle maglie alte allungate del giro precedente maglia alta normale e maglia alta allungata presa dal davanti vedete vedete maglia alta normale guardate ve lo faccio rivedere maglia alta allungata la maglia al centro delle due del giro precedente qui sul davanti prendo prendo e lavoro poi maglia alta normale normale di nuovo di nuovo maglia alta allungata in mezzo alle maglia alta allungata maglia alta normale normale una maglia alta una maglia alta allungata quindi quindi alternato quindi alternato maglia alta normale con la maglia alta con la maglia alta maglia alta normale ora ora ultima maglia alta maglia alta allungata maglia alta grazie ci vediamo al prossimo tutorial con la maglia alta grazie a